Ciao sono Stefano e oggi in questo piccolo tutorial voglio farti vedere come è possibile partecipare a un webinar, a una videoconferenza di Zoom. Devi semplicemente installare l'applicazione Zoom e fare due o tre impostazioni molto molto semplici e veloci. La persona che ti ha invitato al webinar o alla conferenza ti avrà dato un link come questo, devi aprire Google e installarlo nella barra degli indirizzi di Google. Come vedi zoom.us slash j esce una serie di numeri. I numeri ovviamente cambieranno in funzione del tipo di conferenza. Premi invio e accederai al sito di Zoom dove dovrai fare un'unica cosa. Innanzitutto adesso c'è silenzio ma mi scuso se sentirai dei rumori perché stanno usando un trapano pneumatico e una percussione e quindi mi scuso se sentirai dei rumori, l'audio è quello che è. Per il momento silenzio godiamocelo. Dicevo devi premere, clicchi qua dove si è scritto download and run zoom. Non preoccuparti se è inglese, vado di rifare un'unica cosa sul sito. Scarica l'applicazione dove vuoi. Io scelgo il desktop. Faccio salva. Aspettiamo che è molto veloce. Ha finito di salvare e poi vado ad installare l'applicazione. installiamo l'applicazione. Se hai una USB 10 e hai impostato questa cosa altrimenti non ce l'hai e quindi arriverai direttamente qua. Questo tutorial è per il pc. Poi farò un altro tutorial per i cellulari, per i dispositivi mobili. Come vedi è molto veloce. Sta installando l'applicazione zoom. Ok ci siamo quasi 90%. Poi dipende dalle velocità del computer ovviamente. Ecco fatto. A questo punto devi impostare la piattaforma e devi fare tre passaggi fondamentali. Innanzitutto il primo è un consiglio che io ti do, ovvero quello di mettere un nome di identificazione, di modo che chi ti ha invitato al webinar sa che ci sei e sa con chi sta parlando. Non è obbligatorio, però è consigliabile. Quindi metti il tuo nome e poi fai join meeting. Poi dovrei fare altri due passaggi. Uno, sono tutti i pulsanti blu, quindi join with video e tra qualche secondo arriverà anche join with computer radio. Come vedi sono tutti i pulsanti blu. A questo punto tu sei pronto, sei entrato in sala, come si dice, e dall'altra parte troverai tutti gli altri partecipanti e la persona che ti ha invitato. Qui hai due possibilità. Togliere il microfono, che comunque te lo può togliere anche l'hosting, quindi la persona che sta facendo il webinar, e togliere il video. Come vedi il video è già barrato perché lo sto utilizzando per fare la registrazione, altrimenti io mi vedrei e quindi quando tu entrerai ti vedrai. E qua hai la possibilità di togliere il video e di togliere il microfono. Questo tutorial è finito, ci sarà un altro tutorial per i dispositivi mobili, quindi cellulari. Spero di essere stato chiaro e ci vediamo al prossimo tutorial.